è terminato l'incontro qui a Bucchianico 13 a 2 a favore della Virtus Castelfreddano ecco Enrico, Enrico te l'ho detto ti dovevi mettere l'oglio per questo non si è fatto un gol andate a salutare, bravi ragazzi, andate a salutare, bravo, in bocca al lupo dei nostri ragazzi, bravi, bravi ragazzi, giovanotti nessuno non riprende niente, quelli della panchina bravo l'arbitro, ecco bravo Pitbull, pure da difensore, pure da difensore, che se giocate per quello della panchina, solo cioccolato è nero, è nero